Attimi di raccoglimento immersi nella bellezza della natura circostante in momenti di riflessione e comunione hanno caratterizzato il tradizionale pellegrinaggio mandato per i catechisti della diocesi di Acireale che si è tenuto ieri al santuario di Vena. Un appuntamento che ha segnato l'inizio ufficiale del nuovo anno pastorale catechistico 2024-2025 richiamando numerosissimi fedeli ed operatori pastorali che hanno preso parte alla celebrazione eucaristica al centro della quale si è svolto il momento più atteso della serata, il conferimento del mandato diocesano ai catechisti da parte di Monsignor Aspanti. Quest'anno abbiamo voluto dare proprio come segno di questo momento del mandato diocesano dei catechisti alcune parole chiavi. La parola chiave sicuramente è questa della corresponsabilità che il nostro vescovo ha sottolineato in maniera particolare e che coserà anche lo strumento, il percorso che vivremo durante l'anno, ma anche i pellegrini della speranza perché durante quest'anno inizieremo il percorso giubilare e quindi che ci vedrà poi il 12 settembre vivere il giubileo dei catechisti in cattedrale. E poi l'altro aspetto che sottolineiamo in maniera particolare è proprio questo cammino sinodale che deve aiutarci a sciogliere i nodi della nostra esistenza che è un po' buia, un po' tra virgolette disperata per annunciare questa speranza che è Gesù Cristo che ci viene incontro. Durante l'omelia il vescovo ha inoltre esortato i presenti a vivere la loro missione con rinnovato fervore sottolineando l'importanza di una catechesi che sappia rispondere ai bisogni profondi delle persone in un periodo come quello attuale di grande cambiamento sull'educazione della fede. Di fondamentale importanza l'utilizzo di nuove modalità di linguaggi ed un impegno comunitario basato sulla carità e sulla testimonianza di vita.